Nel prossimo video c'è un errore. Naturalmente ce l'ho messo apposta, come al solito, per vedere se gli studenti se ne accorgono. L'errore è che nel tubo a U c'è un liquido di densità 8,50 grammi al centimetro cubo, che naturalmente non può essere un olio, perché l'olio è più leggero dell'acqua e meno denso, e quindi mi sono confuso, la densità dell'olio avrei dovuto scrivere 0,85 grammi al centimetro cubo. Considerato che la densità dell'acqua è 1 grammo al centimetro cubo. Invece questa è la densità dell'ottone, 8,50 volte quella dell'acqua, quindi dovrebbe essere teoricamente ottone liquido. Dunque immaginiamo che non sia olio, ma sia un liquido molto denso, di densità 8,50 volte l'acqua, quindi questo valore qua.